un messaggio ai potenziali clienti Oscar, Luca e Moreno il gruppo Fiat Sant'Arcangelo vendita auto nuove usate e assistenza ufficiale venite, venite e accorrete se cercate un'auto del gruppo Fiat venite a Sant'Arcangelo da Oscar e Luca e da Moreno con la sua ufficina specializzata Fiat vi aspettiamo, mi raccomando vi aspettiamo accorrete gente, accorrete siamo qui per voi un saluto al pubblico ciao grazie a tutti buona giornata, vi aspettiamo a svidere grazie a tutti grazie a tutti